Con il film rigorosamente Made in Fano, due teste di, firmato da Henry Secchiaroli, è partita ieri sera l'estate del cinema all'aperto dell'Arena BCC di Fano. Un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti, coordinato con una formula consolidata da Masetti Cinema. Si può dire ormai che è tradizione la rassegna cinematografica all'interno del cartellone dell'Arena BCC, questo è il quinto anno. Come ogni anno, come il palinsesto e come tutte le altre attività si cerca di migliorare, quest'anno possiamo dire di avere i maggiori successi cinematografici della passata stagione, più 5 serate di film fanesi, dialettali, ovvero 2 serate con il film Due teste di, di Henry Secchiaroli, e 3 serate con il film del San Costanzo Show, non aprite quella sporta, di tutta la banda del San Costanzo. Allora, il prezzo per i film italiani ed europei, l'ingresso è a 3,50 euro, grazie all'iniziativa ministeriale del Cinema Revolution, gli altri hanno un prezzo di 6 euro, 5 euro ridotti, insomma, le riduzioni per i soci BCC, per i tesserati della Proloco e per i possessori di carta Conad. Cinema all'aperto che si mescola alle tante proposte di teatro dialettale nel cartellone dell'Arena Fanese. Prossimo appuntamento con Ulisseide, proposta dal Teatro Accademia. Dunque, Ulisseide il nome già lo dice, logicamente la storia di Ulisse e tutte le sue peripezie, viste con un'ottica molto comica, umoristica, con personaggi stravolti, con delle situazioni fatte molte in dialetto pesarese, quindi per chi conosce la storia, credo quasi tutti, è un divertimento garantito e assoluto, costumi, scenografia, musiche, divertimento assicurato.